benvenuti io sono sempre ivan di armi e tecnologia in questa puntata daremo un'occhiata alle diverse impugnature della nostra pistola che stiamo guardando della smithwesson 629 qui sotto qualche esempio delle mie impugnature nello specifico l'originale in gomma poi ho quella che avete visto montato nell'altra puntata quella della pacca mate anche questa in gomma ho una hug in cocco bollo in legno e un'altra in legno una marca generica non so mi è stata regalata da un amico qui vedete appena la metà perché l'altra metà è in lavorazione infatti anche non lasciatevi diciamo il colore è questo perché deve essere ancora lavorato il legno però serve per farvi capire alcune cose allora cominciamo a guardare un po le differenze e a capire differenze su diverse impugnature allora prima di tutto la prima differenza che salta subito all'occhio è il materiale legno o gomma ognuno ha vantaggi su questo tipo di impugnatura la gomma consente di tenere di avere un prezzo inferiore sicuramente ma anche di poter essere modellata forse più a pacimento rispetto al legno la gomma differenza potete vedere questa che l'originale che è stata portata per molto tempo tende a lisciarsi a diciamo perdere diciamo la patina e a consumarsi leggermente il legno resta più danneggiato se vogliamo seconda del tipo di legno questo di molta qualità ad esempio in realtà non ha subito danni anche questo penso che sia più meno comparabile come tempo che è stata portata detto questo vogliamo dare un'occhiata allora vedete subito la differenza che alcune impugnature hanno una vite centrale altre non si vede non si vede perché lì nella vita e sotto sottostante normalmente quando è venduta la pistola alla vite sottostante questa qua fare questa buona prima tour originale infatti se voi vedete qua sotto al telaio c'è un piccolo una piccola solo dire non una vite ma un pernettino ecco doveva agganciarsi questa staffetta e questa è dove c'è la vite che validarsi vedete agganciarsi qua sotto ecco la vite si aggancia questo se si vogliono mutare anche impugnature quella lì va tolta perché questa qua che quella che avevo su prima che quella preferisco attualmente non ha bisogno della diciamo di questa stavettina sottostante perché va a fissarsi lateralmente c'è anche un'altra cosa in differenza allora praticamente esso qua mi mi faccio aiutare da cascato un po tutto mi faccio aiutare un attimo qua vedete adesso riusciamo a vedere bene se riesco a farvi vedere bene praticamente il telaio vedete che ha una forma questa qua questa qua sarebbe il round butt sarebbe questa qua praticamente scusate sono detto 400 volte praticamente il telaio specie nelle versioni vecchie era il square era questo vedete nelle versioni nuove questa è una cosa che bisogna verificare prima di acquistare in impugnatura è diventato round questo perché perché vuoi su un round se volete potete montare lo stesso un'impugnatura più lunga l'impugnatura più scampanata ma a differenza se voi avete la scampanata non potete montare un'impugnatura diciamo più round in modo volgale può sarebbe questa fate voi vedete se vedete questa che è quella della mia pistola e va sul round in realtà gli va a far avere la forma delle pistole vecchie che era la square vedete ecco spero che si sia visto altrimenti in fase di montaggio farò modo di farvi vedere la fotografia comunque in vantaggi delle diverse impugnature allora questa è l'originale l'originale ha una buona presa si sente molto bene l'arma in mano e consente di sopportare diversi colpi in modo modo agile le 44 anche ricaricati questa diciamo è quella più comoda durante lo sparo poi abbiamo questa questa potete vedere la differenza che più piatta è molto più piatta questa se avete seguito altri video sapete che ho la fondina che sono un estimatore di bill jordan assomiglia moltissimo a quella progettata da bill jordan che aveva come caratteristiche di essere molto piatta e perciò essere afferrata in modo rapida giusto la sua differenza di questa era in materiale plastico più rigido ed era liscia perché questo dava un vantaggio che vedremo poi nelle altre queste invece è un po di grip questa la comodità del porto perché sento piatta in parte da poco fastidio e però all'altra parte che sparare 50 colpi di 44 magno con questa sulla mano si sentono e più come più riconfortevole all'altra però se dovete portare un'arma diciamo dovete sparare 50 colpi tutte le notti non vedo perché non portare questa impugnatura che considero ottima qui abbiamo praticamente un'impugnatura della hug a dire la verità questa è un mio brevetto perché è stata accorciata è stata leggermente accorciata adesso andiamo a farvi vedere come va montata così ha il vantaggio di essere tipo un dito unità di misura più corta facciamo vederla così bene adesso facciamo a farvi vedere bene che è circa un dito più corta quando si spara sia che la pistola il minero quasi non è appoggiato sono ci sono delle impugnature fatte apposta questa qua non è la mia modifica perché non usavo l'impugnatura ma ci sono già fatte apposta questo vuole dire che quando si spara sulla mano si prendono una bella legnata però al vantaggio questo sembra poco ma quel centimetro che manca consente di migliorare il porto specie in borselli o un trasporto occultato migliora molto con questa impugnatura e per ultima abbiamo non questa diciamo metà che sarebbe questa questa impugnatura che andrebbe montata così che lascia l'arma molto scampanata ha un grosso vantaggio allora come detto anche da bill jordan quando si spara o meglio quando si estrae per sparare spesso molto spesso la mano non va nella posizione corretta sull'impugnatura questo perché difficilmente la pistola sempre nel stesso punto la mano scende sempre nel stesso punto insomma ci sono diversi problemi il vantaggio che hanno quelle lisce in legno è quello che se la presa non è giù perfetta perché magari è un po spostata di qualche millimetro la mano nel stringersi scivola e riesce ad andare in posizione più corretta capite mentre invece su una fondi su una impugnatura di gomma dove praticamente c'è molto grip in realtà la posizione che sia quando si prende mano la pistola e quella se si prende se la mano scende prende la pistola leggermente storta vi resterà questo qua sto esagerando leggermente storta perciò il mura il mirare sarà più difficoltoso si rischierà più di sbagliare invece un'impugnatura che consente di far scivolare la mano sopra giusto consente alla posizione di andare dalla posizione alla impugnatura la pistola perciò di andare in posizione più corretta se questa cosa è accentuata nel male diciamo in questa e diciamo nel bene qua qui raggiunge l'apice perché qua l'impugnatura è praticamente tipo pacemaker è molto il modello molto vecchio diciamo totalmente liscia e qua veramente la mano scivola e sopra sulla sull'arma c'è anche un'altra cosa da dire che io amo molto quelle impugnature qua scampanate vedete perché il fatto che in fondo l'impugnatura sia più larga e va già a stringersi fa un altro effetto molto positivo è quello che adesso cerco di farvi spiegarvi che se la mano è grande quando stringere stringe adesso vediamo se riusciamo si si appoggerà sulla parte più aspettate vediamo se riusciamo a fissarlo in qualche modo una parte più grande e sarà una presa ferma è giusto vedete a differenza se la persona che spara una mano più piccola le dita scorreranno verso l'alto cercando la parte più fine dell'impugnatura avendo comunque una dimensione in mezzo alla mano corretta cioè praticamente avere l'impugnatura a forma di campana consente come ho già spiegato in un altro episodio del podcast di far sì che se la mano è grande si si appoggia sulla parte più grande se invece voi avete una mano piccola si appoggia sotto mano più piccola sulla parte più piccola di impugnatura comunque la mano stringe se si trova sempre la posizione più corretta di stringere di afferrare l'arma questo perché è vero che è importante che la posizione dell'arma sia sempre la stessa e vada sempre diciamo nel modo più corretto in modo da sparare sempre stessa posizione ma è anche importante che la mano tenga in modo saldo l'arma in modo che riesca a rispondere a meglio doppiare i colpi perché se l'impugnatura avete una mano troppo piccolo rispetto all'impugnatura non riuscite a far forza e si vengono crea tutti i problemi che vi fanno sparare l'armare qui possiamo dire anche un'altra cosa che parliamo appunto giusto per discorso che abbiamo aperto la pistola qui abbiamo le tre viti che tengono fermo il carter questo qua è un po sporca un po di olio non preoccupatevi che tengono fermo il carter il carterino sotto ci sarà tutto il meccanismo che vedremo nelle prossime puntate e in più c'è la molla quella che vi dicevo che è quella che dà proprio il movimento all'arma adesso pistola scarica voi vedete che se caricate vedete che la molla va in tensione questa è quella proprio che dà il movimento che carica l'arma ecco questa mola qua come che si smonta è molto semplice basta svitare questa vite e la molla si viene via abbastanza agilmente il problema che molta gente per tenere il carico dell'arma cioè il carico della molla più basso nel senso far sì che la doppiazione sia più più diciamo più tenera con meno chili tende a svitare questa molla questo è un problema perché se voi vi svitate la molla dopo rischiate di fare cilecca perché la molla ha meno forza e si rischia di fare cilecca tramano spari perciò è importante che la molla si è tirata fino in fondo perché è meglio avere uno scatto un po più duro giusto che però siamo sicuri che spari piuttosto che uno scatto che invece fa cilecca su due due tre colpi giusto adesso rimontiamo sulla sua pugnatura modo molto agile ecco come al solito le pistole sono fatte per per i destri e perciò per i mancini che normalmente un mancino faccio vedere vedete mente per mente per il destro la pistola resta la impugnatura sta perfetta per il mancino si vede la vite vabbè non ho a lamentarmi personalmente col costruttore comunque vedete questa vi dico la mia preferita perché è molto piatta e semplice nelle linee giusto e consente di avere comunque un ottimo grip adesso quando finirò di fare questa impugnatura vi farò vedere con più avanti vi farò vedere questa impugnatura qua montata l'effetto che darà il bello un'altra cosa bella del legno che il legno comunque differenza della gomma che è rovinata per la tenete così il legno si può grattare poi mettere su materiali specifici tipo cereo o similari che tornano rendono lucente legno come se fosse nuovo ci sono tutte la serie materiali piccato sono cose per i mobili per l'igno dei mobili comunque eventualmente a riaffonteremo col discorso qua che mi interessava deve farvi vedere la nostra pistola e vedere qualche tipo di impugnatura da abbinare bene anche per questo è tutto ci risentiamo ci rivediamo alla prossima puntata un saluto dai vandialmi tecnologia e grazie per aver visto il video